Su iniziativa del Lions Club di Ribera si è svolta la quinta edizione della cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata Francesco Manzullo, giovane avvocato riberese scomparso nel 2017 a soli 38 anni. Una borsa di studio che ogni anno viene assegnata a quegli studenti che, dal liceo classico di Ribera, scelgono di seguire lo stesso percorso di formazione di Francesco Manzullo, iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza. A introdurre i lavori è stata la dirigente scolastica dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Francesco Crispi di Ribera Antonina Triolo. Il presidente del Lions Club di Ribera, Nicolò Scaturro, ha ricordato la figura del giovane avvocato, mentre il sindaco Matteo Ruvolo si è complimentato per l'iniziativa. A tracciare un profilo in ricordo di Francesco Manzullo è stato il suo insegnante di storia dell'arte al liceo classico, Giuseppe Mazzotta, che ha descritto la capacità del sorriso che il giovane studente trasmetteva, ricordato anche dall'amico Domenico D'Aleo. A vincere la borsa di studio è stato il giovane Rosario Borsellino. Sono poi intervenuti i vincitori delle scorse edizioni della borsa di studio, Alfonso Urso, Pio Emanuele Danile, Emily Cortese e Chiara Di Giorgi. Presenti alla cerimonia anche i familiari di Francesco Manzullo. A chiudere i lavori è stato l'avvocato Giacomo Cortese, presidente Lions della zona 28 della nona circoscrizione del distretto del Lions Club International. Grazie a tutti.